Mainiero, ora nel mirino anche il centrosinistra ha definito da lei la stampella di Landella, perché? Guardi, io chiedo a voi di constatare come negli ultimi quattro mesi da questa crisi, che ormai dura da due anni, però da circa 4-5 mesi dove i numeri sono mancati, dove Landella non ha più nemmeno una maggioranza numerica, perché non ha più una maggioranza politica da due anni, quando viene meno la maggioranza numerica ci sono sistematiche assenze da parte dei banchi delle cosiddette posizioni, persone che sono sempre presenti nelle commissioni ma sistematicamente assente nei consigli che contano, lei pensi all'approvazione del bilancio, del DUP, delle tariffe, tutti adempimenti che se Landella non avesse portato a casa sarebbe a casa, lui. Invece Landella è riuscito ad approvare questi accapi che il testo unico prevede in caso di non approvazione, lo scioglimento del Consiglio Comunale, Landella con sempre meno di 17 consiglieri, ora con 15, ora con 12, ora con 13 approva tutti questi provvedimenti. Io prendo atto che vi sono nella minoranza sistematici, sistematiche assenze che consentono a Landella di tirare a campare. Bene, Landella può tirare a campare, per lui sarà sempre meglio che tirare le cuoia, però la città sta morendo. Io ho lanciato un grido d'allarme alla sinistra per dire guardate nella diversità delle opinioni, nella divergenza sul piano politico, c'è la necessità di ricostruire un quadro politico condiviso che è quello di una compagine consigliare che non abbia più nelle fila del centrodestra e centrosinistra di questi personaggi in cerca di autore che hanno un consenso tutto personale, le cosiddette preferenze, questi cammini di preferenza che però nel loro agire quotidiano nel Consiglio Comunale sono assolutamente assenti.